oggi parleremo di modello di business molto interessante si usa telegram per farlo allora quindi con telegram creiamo un nostro canale andiamo sul nuovo canale gli diamo un nome ad esempio super sconti creiamo perfetto in questo modo abbiamo un modello di business capace di raggiungere sempre il cliente poiché è un programma che viene installato sui telefoni e per usare questo programma per promuovere questo programma noi abbiamo creato estensione admitad light estensione per chrome il tutto è molto semplice è un'estensione che racchiude in sé più di 30 mila advertiser questa estensione è stata creata per la felicità di utilizzo racchiude in sé più di 30 mila advertiser in tutto il mondo vediamo un po come funziona andiamo ad esempio su un euro se lo siamo un prodotto ad esempio questo telefono il dopo di che basta cliccare semplicemente sull'estensione la quale automaticamente creerà link di affiliazione il deep link eccolo qui lo possiamo copiare e inserire nel nostro canale telegram condividendolo con i nostri utenti ed ecco qua il gioco è fatto questo strumento viene usato soprattutto per facilitare la creazione dei link e per avere l'opportunità di usufruire degli errori di prezzi degli sconti che alcuni negozi hanno ad esempio su media world possiamo soluzionare questo telefono che è scontato creiamo il nostro link eccolo qui lo copiamo e lo andiamo inserire nel nostro canale ecco fatto cliccando sul link vediamo che andiamo a finire direttamente sulla pagina del telefono benissimo per oggi è tutto nel prossimo video parleremo di altri modelli di business e altre fonti di traffico grazie per l'attenzione arrivederci